Giovedì 1 marzo 2018 Buongiorno, ben trovati, primo appuntamento con l'informazione di TV6, con la nostra rassegna stampa, primo appuntamento informativo della giornata per la lettura dei quotidiani, come sempre partiamo dalle prime pagine dei giornali abruzzesi che troverete oggi in edicola, partiamo dal centro, Nagliadi, presi i ladri della cassaforte, vedete il titolo che riguarda la cronaca, siamo a Pescara, l'edizione di Pescara del centro, tre arresti, tra loro anche l'ex custode dell'impianto, ma i 70 mila euro sono spariti, questo il titolo che riguarda la prima pagina, il titolo principale della prima pagina della cronaca di Pescara. Andiamo a centro pagina, piazza Salotto, torna il festival del cioccolato, vedete un'immagine dell'edizione passata, la manifestazione si terrà nel capoluogo adriatico da oggi a domenica. E poi verso il voto, perché siamo ormai alla stretta finale, i partiti sono davvero al rush finale per quanto riguarda le elezioni di domenica, i 5 Stelle a Pescara ieri hanno presentato due personaggi di eccezione per quanto riguarda il programma sportivo nazionale del movimento, ovvero Zeman, tecnico del Pescara, l'ex campione di nuoto Domenico Fioravanti, che è stato applauditissimo anche a Pescara, così come il tecnico Biancazzurro. Partito democratico, invece fondi l'assist del governo ad Alfonso, vedete il titolo più in basso. E poi passiamo anche al centro-destra, Forza Italia, gran finale con Bertolaso all'Aquila, Bertolaso ex capo della protezione civile. E poi a Pescara, restando alla politica, ma alla politica comunale, comune un software per scovare gli evasori presentato ieri in conferenza stampa. E poi la cronaca, Golena, parla uno degli aggrediti, li abbiamo aiutati e ci hanno picchiato. Vedete questo titolo che riguarda un articolo che poi troveremo all'interno del giornale. Poi Montesilvano, rubati vini pregiati dell'hotel Rigopiano. Lasciamo la prima pagina del centro di Pescara, siamo a quella di Chieti, Lanciano, Vasto, la cronaca in questo caso in apertura. Il NAS lo accusa, è un falso dentista, sigilli al laboratorio, ma girava anche su un furgone in studio. Lui si difende, faccio protesi, questo è il titolo principale. Poi Chieti, volontari al lavoro sulle strade ghiacciate, Chieti nella morsa del gelo come un po' tutto l'Abruzzo nelle ultime ore. È caduta la neve anche innottata in diverse zone della nostra regione, ma una nevicata leggera. Ancora Chieti, no ai rifiuti da Roma, vieterò la discarica. Interviene il sindaco del capoluogo teatino, Umberto Di Primio. E poi vediamo altri titoli. Vasto, padre denuncia il figlio per salvarlo dalla droga. A Tessa rubò la corona della Madonna, condannato. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Teramo del quotidiano il centro. Annullata la fiera dell'agricoltura, il comitato organizzatore, meglio aspettare la nuova amministrazione. E dunque non ci sarà la fiera dell'agricoltura di Teramo. E poi proteste a Crognaleto, siamo in provincia di Teramo. Bustua si rompe, pendolari a piedi nel gelo. E poi in Val Vibrata scosse e destrazioni abbassano i fondali davanti alla Vibrata. Giulianova ricatti a luci rosse in quattro a giudizio. E poi ad Atri sarà creato l'albergo diffuso, boom di bed and breakfast anche nella nostra regione. Vediamo anche la prima pagina del centro di L'Aquila Vezzano sul Mona. Altre 400 attività tornano in centro. Siamo all'Aquila, più ristoratori artigiani e meno studi professionali per il bando regionale. E poi la fotonotizia. L'Aquila notte al freddo sulla gru, giustizia negata. La protesta di un uomo per una causa bloccata. E poi siamo ad Avezzano. Parla il presidente dell'Avezzano Calcio Gianni Paris sulla vicenda delle tasse vasi. Vedete il titolo. Paris paga dopo l'indagine. E poi ancora Avezzano. CAM travolto dei debiti. Si muove la procura. Il CAM, il consorzio acquedottistico sul Mona. I commercianti divisi sul corteo di protesta. Vediamo anche la prima pagina dell'inserto a Bruzzo del messaggero. Maxi condanna per il comune. Pescara dopo 30 anni. Arriva il conto per il pasticcio legato all'esproprio di un terreno. La somma fu pagata a chi non era proprietario. Ora il municipio sborserà più di un milione di euro. E poi Teramo. Vedete l'articolo di Spalla. Il rapinatore ha altri due alias. Dopo 17 anni. Processo da rifare. Siamo all'Aquila. In cella le estremiste islamiche. Mentre a Pescara. Nayadi colpo da 70 mila euro. Arrestati i presunti ladri. Sfondati un cancello e una porta antipanico. Avrebbero asportato la cassaforte. E poi in basso anche sul messaggero ritroviamo la notizia che abbiamo visto poco fa sul centro. Notizia che riguarda un'operazione dei NAS. Curava i denti su un furgone. Andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano La Città. Vediamo il titolo di apertura. Trappola sessuale con minorenne. La usano per adescare e rapinare un pensionato. Poi ricattano la famiglia della ragazzina. Centropagina. Scuole aperte. Scuola bus bloccati. Pasticcio del comune a isola. Lascia a casa i 77 alunni delle medie. E poi bustua in panne. Studenti al gelo a Crognaleto. E poi di spalla. Potere al popolo. Si parla di politica. Matteo Ginaldi. Un terramano a sinistra della sinistra. E poi elezioni. Colpi bassi e fake news a ridosso del voto. E poi lo sport in basso. Vedete il chiarimento. Il presidente del Teramo, Luciano Campitelli, pronto a incontrare tutte le anime dei tifosi del Teramo. Ieri attraverso un comunicato il padrone Biancorosso ha chiesto scusa alla tifoseria. Tutto questo era stato anticipato dal presidente della società Biancorossa nel corso di Proteramo in onda martedì scorso sulla nostra rete. Proteramo che aveva come ospite con Jacopo Forcelle e Andrea Costantini proprio il presidente della società Biancorossa, Luciano Campitelli, che proprio nei nostri studi aveva parlato di questa polemica con i tifosi. Chiudiamo per il momento la pagina regionale. Apriamo quella nazionale con l'edicola che inizia con il Corriere della Sera. Ovviamente i titoli principali riguardano la politica. Ma non solo. La scelta diletta. Sostengo Gentiloni. Caso Fioramonti nel governo. 5 Stelle, questo è il titolo in alto. E poi un titolo importante che riguarda la cronaca. Una tragedia accaduta a Cisterna di Latina. Allarmi ignorati. Poi la strage. Carabiniere spara la moglie e uccide le figlie. Lei avvertì. Tenetelo lontano. Si barica in casa. E dopo sette ore di trattativa si toglie la vita. Non accettava la separazione. E poi vedete a centro pagina. Si parla di clima, di tempo. Un clima, molti dicono, impazzito. Cambia infatti la mappa del gelo. L'Europa è la nuova artide. Temperature polari in Europa. Temperature oltre la norma nel Polo. Lasciamo il Corriere della Sera. Siamo a Repubblica. Carabiniere killer. La moglie chiese aiuto ma non fu ascoltata. E poi governo. Le regole di Mattarella. Si parla ovviamente di elezioni. E poi politica internazionale più in basso. Brexit. Teresa May si ribella all'Irlanda del Nord e nell'Unione Europea. Condizioni inaccettabili, dice il primo ministro inglese. E poi il fatto quotidiano. Berlusconi che riesuma Francesca. Ma ambra ricorda. Io da Silvio. A One Stein. Bunga Bunga. Questo è il titolo del fatto quotidiano. La seconda puntata dell'intervista di Asia Argento. alla Battilana. In alto. Una strana ambulanza H24 per Gentiloni. Allerta. Due medici fissi. Il misterioso rischio bomba chimica. Altro titolo che ritroviamo sul fatto quotidiano. E poi anche sul fatto. Vediamo il titolo che riguarda la strage. A Cisterna di Latina. Perché l'arma non si è mossa. Si chiede il fatto quotidiano. Andiamo a vedere anche la prima pagina nazionale del messaggero. Non mi separo. Uccide le figlie. Latina. Orrore all'alba. Spara la moglie in strada e sale in casa e fa fuoco sulle bimbe addormentate. L'uomo si è suicidato. Era un carabiniere. Lei in fin di vita aveva già denunciato altre aggressioni in casa. Vedete poi più in basso. Il maltempo. Treni. Il conto salato dell'era. Mazzoncini dalla manutenzione ai pendolari. Gestione sotto accusa. E poi la politica. Parla il presidente del Partito Democratico Matteo Renzi. Movimento 5 Stelle estremisti. L'unità nazionale. Con loro impossibile. Dice l'ex presidente del Consiglio. Siamo al manifesto. Fronte nero. Questo è il titolo del quotidiano comunista e la foto in alto riguarda l'incontro, la visita di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia in Ungheria con il primo ministro, il leader ungherese Orban. Siamo al mattino di Napoli. La notizia principale riguarda la politica. Centropagina PD, cresce il fronte Gentiloni, la comunità ebraica contro Fioramonti, candidato ministro del Movimento 5 Stelle. Odia Israele, dice la comunità ebraica. Poi in alto, vedete, la moglie lo lascia, uccide le due figlie. Anche sul mattino ritroviamo questa notizia, questa tragedia accaduta a Cisterna di Latina. Siamo al giornale. Flat tax, istruzioni per l'uso, la riforma rilancerà i redditi, la crescita ed il gettito. Ecco perché ne parla il quotidiano. Il giornale oggi ne dicola. Libero, solo briciole di autonomia. Maroni e Zaia firmano il patto con il governo. E poi Meloni in Ungheria impara ad espellere i clandestini. Ne parlavamo prima con il titolo del giornale Il Manifesto. Incontro con il presidente Orban in Ungheria per il leader, per il presidente di Fratelli d'Italia. Siamo al sole 24 ore. Nuovi contratti, spazio alla produttività. E poi la stampa di Torino. Gentiloni, l'Unione Europea teme l'intesa destra populisti, dice il presidente del Consiglio. Meloni in visita da Orban, giusto che non prenda i nostri migranti. E poi il reportage nella Slovacchia che scopre le cosche, reportage del quotidiano torinese. E poi in basso, Nevica non parte. Un treno su due, scuole chiuse in molti comuni per la nuova ondata di maltempo. Fermi i tir sulle autostrade. Poi il tempo di Roma, ecco i 750 nuovi parlamentari. Si parla collegio per collegio di quelli che potrebbero essere gli eletti. E poi una notizia di sport che riguarda la semifinale di Coppa Italia, giocata ieri allo Stadio Olimpico. Dramma Lazio, dramma sportivo. Ovviamente Milan in finale dopo i rigori a regalare la finale contro la Juventus. Rossoneri è stato un giocatore romano e laziale come Romagnoli. Il quotidiano La Verità, l'inutile elemosina di gentiloni alle aziende che lasciano l'Italia. Stalla chiusa, a buoi scappati, scrive il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. E poi a centropagina vedete la sfida della Biancofiore. Aspettatevi sorprese, la Boschia unito contro di sé tedeschi e italiani. dice la Biancofiore, che è una parlamentare, una politica di forza Italia. Il secolo d'Italia, patriotti d'Europa e il secolo d'Italia, giornale vicino a Fratelli d'Italia. Ovviamente punta tutto nel suo titolo di apertura della prima pagina. Sulla visita vedete la stretta di mano di Giorgia Meloni con il primo ministro ungherese Victor Orban. Era questo l'ultimo titolo dell'edicola nazionale. Torniamo alle vicende di casa nostra. Torniamo a parlare di politica, perché il 4 marzo si va al voto. Sono questi gli ultimi due giorni per parlare di politica, per cercare di convincere gli elettori, soprattutto gli indecisi. Sabato ci sarà il silenzio elettorale. Poi domenica si andrà al voto. Vediamo come il centro parla dell'Abruzzo verso il voto del 4 marzo. I 5 Stelle scommettono su Zeman e Fioravanti. Questo è il titolo di apertura. Pescara di Battista Annuncia, un olimpionico ministro dello sport. Ieri bagno di folla, Laurum per Zeman e Fioravanti. Vi abbiamo proposto il servizio su questa manifestazione nel corso del nostro Tg di ieri, nelle nostre edizioni del Tg6. Poi in basso Rizzo alle assemblee in fabbrica. Il segretario del Partito Comunista ricorda l'avvertenza Oniwell in Val di Sangro. E poi Civica Popolare, la Chiavaroli, ieri con Martizzoli e Petrucci, l'ex presidente del Econi, simbolo dello sport. Andiamo avanti, ancora verso il voto. D'Alfonso assist di 41 milioni dal Cipe, via libera ai finanziamenti per porti, località scistiche e ferrovie. Il mio compito è di drenare risorse, ha detto D'Alfonso, è finito. E poi gli aiuti alle province, strade distribuiti 56 milioni a Chieti, la fetta più grande. E poi domani ci saranno diversi eventi a Pescara e l'Aquila e un po' in tutta la regione, perché ci si avvia alla chiusura proprio della campagna elettorale. E domani gli eventi a Pescara ci saranno per quanto riguarda il PD al Cinema Massimo e ci saranno anche il cabarettista Anduccio e Bob domani sul palco del PD. E sempre domani la convention di chiusura di Forza Italia all'Aquila. Arriva Bertolaso verso il voto del 4 marzo, Di Maio. Siamo primi, maggioranza assoluta, dice il leader del 5 Stelle. Votare il centro-sinistra è inutile, fuori combattimento. La sfida è solo con il centro-destra. Squadra pronta, Mattarella deciderà. Salvini vincerà la Lega, io sarò il premier. Questa è la risposta del leader della Lega. E poi andiamo avanti, ritroviamo la pagina sulla strage familiare accaduta a Cisterna di Latina. Questa tragedia di ieri uccide le figlie, poi si toglie la vita. Aveva già sparato la moglie, che è gravissima, ricoverata all'ospedale San Camillo di Roma. Il carabiniere si è barricato in casa per nove ore. Poi una notizia che riguarda il maltempo, anche sulle pagine nazionali del centro. Neve ghiacciata al nord, allerta a gelo, scuole chiuse in diverse città e in diverse regioni. Siamo alla cronaca regionale, siamo sempre sul centro. Patto per l'esportazione, tua e Cap3 in un accordo che vale oltre 3 milioni di euro. Rinnovata la partnership con l'azienda che fa parte del gruppo francese SNF. Porterà ogni giorno in nord Europa 150 furgoni Ducato prodotti dalla Sevel della Val di Sangro. Noi ieri abbiamo seguito con le nostre telecamere proprio questa conferenza stampa che si è tenuta nella sede della TUA a Pescara per illustrare proprio questo accordo, questo rinnovo. Andiamo a vedere il servizio. Presidente Tonelli, si rinnova questa partnership, questo accordo fra la TUA e la Cap3? Come abruzzese dico che è un evento estremamente favorevole perché abbiamo la presenza di aziende importanti che conoscete. Queste aziende devono poter portare e utilizzare mezzi ferroviari a parte non intassare le strade ma è anche più economico farlo e quindi bisogna sviluppare e stare al passo. Sangritana Spa perché è una società posseduta da TUA al 100%. L'abbiamo proprio destinata ai servizi a mercato cioè dove non ci sono interventi pubblici quindi si deve autofinanziare e autogestire. Bene, questa è un'attività importantissima perché abbiamo la Sevel, abbiamo altre aziende e con Cap3 noi siamo andati a completare un po' l'operatività aziendale perché Cap3 noi serviamo la fascia costiera adriatica Cap3 ci consente invece di espanderci in Europa. Ormai sono sei anni che stiamo già lavorando insieme con successo in questi anni abbiamo addirittura triplicato le nostre attività e per noi Sangritana TUA è un partner di riferimento per tutto il centro-sud stiamo sviluppando sempre di più noi facciamo parte del gruppo SNCF siamo internazionali presenti in tutta Europa e per noi questo è il partner per fare il centro-sud per noi apre nuovi mercati ma soprattutto li apre per la realtà locale noi come sapete prevalentemente esportiamo dall'Abruzzo i nostri treni prevalentemente vanno verso il nord carichi e quindi facendo business insieme aiutiamo anche tutte le realtà locali, industriali e regionali. Siamo alla cronaca di Pescara sempre dal centro vedete il titolo di apertura di pagina 16 colpo da 70.000 euro furto alle piscine e leinaie di Pescara arrestato l'ex custode in tre ai domiciliari e poi in basso rubati i vini pregiati dello Terrigopiano continua la serie di furti riconducibili alla tragedia di un anno fa vedete le 200 bottiglie erano in un garage e poi la cronaca pestaggio alla Golena ci hanno chiesto aiuto poi sono volati i pugni parla uno dei ragazzi picchiati domenica mattina all'alba nel parcheggio sul lungo fiume quello che è successo a noi poteva accadere a chiunque e poi in basso una media di due aggressioni a settimana Scani dottor Giuliano Ascani primario di chirurgia maxillo facciale dice in aumento le fratture al volto dovute a violenza cioccolato e musica per quattro giorni in piazza Salotto a Pescara da oggi a domenica ieri l'iniziativa è stata presentata a Palazzo di Città e poi il contenzioso Palazzo di Giustizia accordo transattivo comune imprese e poi il controllo sui tributi il sindaco un software scoverà tutti gli evasori siamo ancora a Pescara il comune è stato ammesso al finanziamento di un progetto nazionale innovativo e poi subito i soldi per le strade piene di buche Antonelli di Forza Italia attacca Blasioli non basta sistemare le due riviere tutta la città sembra bombardata e poi parcheggi sul lungomare sud oggi lo scontro in consiglio comunale a Pescara Nadia e Bartolo ricevuti dal vero sindaco Alessandrini e il vice Blasioli incontrano in municipio la coppia di disabili Stop alla desertificazione riportiamo gli uffici in centro queste le proposte di confesercenti per rianimare il commercio proprio in centro a Pescara Regione e Università nelle vecchie sedi bancarie e poi Millo tra gli studenti del Rossetti incontri a scuola con gli artisti stamane ci sarà anche l'autore del murales di Fontanelle Siamo a Montesilvano SS allagamenti canali di scuolo intasati strade alluvionate i consiglieri Ruggero e Rossi indicano le condotte per le acque bianche ostruite dai detriti e attaccano basta poco per fare una buona manutenzione e poi il titolo di spalla 30 anni fa la grande beffa dell'apparizione della Vergine leggiamo questo titolo del centro in 20.000 sul colle molti forse ricorderanno questi fatti accaduti proprio sul colle della vecchia di Montesilvano e poi in basso animazione talenti e magia Portoallegro due pomeriggi dedicati ai bambini e alle famiglie ancora alla pagina siamo alla pagina di Montesilvano e dell'area metropolitana di Pescara in alto Abruzzo include 101 gli ammessi alle prove e poi il Barcellona Camp appoggio degli Ulivi città Sant'Angelo torna dal 24 al 29 giugno lo staff della mitica cantera Blaugrana per selezionare nuovi talenti siamo a Francavilla al mare da Zanardi al tennis la città prepara grandi eventi sportivi primo appuntamento la Michettiana di ciclismo poi torneo delle regioni di calcio e nazionale paralimplica sempre a Francavilla ancora Francavilla aziente in rete e lavoro flessibile poi in basso San Giovanni Teatino Zeus vince la passerella di Mr. Cut siamo alla pagina della provincia di Pescara siamo a Penne ortopedia tempi lunghi per il medico reparto alla paralisi si dovrà attendere fine marzo per sapere se sarà sostituito il professionista pensionato ricoveri bloccati e poi manoppello cambiando argomento strada 3539 riapertura entro maggio a Popoli il Comune potenzia l'assistenza ai poveri il Consiglio un nuovo regolamento per l'accesso alle prestazioni crescono gli aiuti e in basso a Caramanico Terme opera del Comune alla Venaria Reale di Torino siamo alla pagina di Chieti del centro l'inchiesta dei NAS cura i pazienti ma è un falso dentista sequestrato un laboratorio abusivo indagato un odonto tecnico l'accusa interventi anche a bordo di un furgone possiamo vedere su questa vicenda il servizio curato da Alfredo Primante girava per le città abruzzesi a bordo di un furgoncino con l'insegna pubblicitaria SOS Dentiera ma non aveva i titoli per esercitare la professione odontoiatrica i carabinieri del NAS di Pescara hanno denunciato un 55enne di Chieti che effettuava riparazioni odontoiatriche a domicilio i militari hanno accertato che l'uomo non aveva la laurea e conseguentemente nemmeno l'iscrizione all'ordine professionale attraverso un kit pronto all'uso il falso odontoiatra poteva effettuare visite diagnostiche trattamenti sanitari anche di natura cruenta riparazioni odontotecniche ai pazienti ignari della mancanza dei titoli necessari a svolgere quelle attività la procura di Pescara sulla scorta dei riscontri investigativi ha emesso un decreto di perquisizione eseguito presso l'abitazione del falso dentista in un piccolo centro della provincia di Chieti i militari hanno trovato oltre al furgone una struttura abusiva allestita nelle pertinenze dell'immobile realizzata con pannelli in legno e cartongesso al cui interno era stato allestito uno studio dentistico e un laboratorio odontotecnico i carabinieri hanno sequestrato un riunito dentale attrezzature odontoiatriche e vari medicinali utilizzabili per prestare cure odontoiatriche ma di esclusiva competenza di medici siamo a Chieti rifiuti di Roma di primio vieta la discarica vedete il titolo nella parte bassa della pagina l'affare dell'immondizia a Chieti il sindaco contro la regione qui si può fare solo il trattamento dice il primo cittadino siamo alla pagina della provincia di Chieti in alto a Tessa Sevel tre turni extra dopo lo stop per neve e poi ad Atessa rubò la corona della Madonna condannato in basso io l'ultimo profugo istriano Agostini sfuggì con la famiglia nel 1947 l'esodo immortalato in una foto simbolo che vedete in basso siamo a Ortona al duplice omicidio di Ortona Marfisi aveva un piano per ucciderle ecco la perizia psichiatrica era capace di intendere e di volere l'assassino piange in aula la sentenza il 6 giugno San Vito Chietino i 18 cani spostati da Tufillo vanno al canile di Ortona Fossa Cesia sportello a sostegno delle donne l'8 marzo apre Demetra in basso Ortona slitta la riapertura del mercato coperto nella cittadina in provincia di Chieti siamo a Teramo il caso giudiziario rubò nella casa di Pericone va riprocessato dopo 17 anni sotto accusa un albanese oggi irreperibile che nel 2001 narcotizzò l'imprenditore di Tortoreto e poi occupazione una buona notizia Amadori in arrivo 30 nuove assunzioni Mosciano per effetto dell'integrativo 40 dipendenti dal 5 marzo passeranno a tempo indeterminato ancora la pagina di Teramo e Teramo provincia dal centro la fiera dell'agricoltura non si farà rinviata la trentesima edizione il comitato organizzatore dice aspettiamo la nuova amministrazione in comune l'ex sindaco Maurizio Brucchi dice mi dispiace andiamo a centro pagina Giulianova simulano incontro sessuale rorapinano Giulianova giudizio per aver bastonato un anziano e distorto soldi ai familiari della 16enne coinvolta in basso blackout spariti alcuni rimborsi lo dice l'associazione Robin Hood una decina di assegni Enel mai arrivati ai clienti risultano incassati e poi Colonnella scatta l'ordinanza contro i clienti delle prostitute siamo ad Atri e boom delle strutture ricettive negli ultimi cinque anni aumenti del 50% ancora Atri albergo diffuso in centro parte il progetto del comune Pineto alleanza tra le quattro proloco Atri Silvi Pineto e Mutignano lavoreranno insieme per promuovere il territorio in basso a Pineto quel parco non è in abbandono presto i lavori di riqualificazione quartiere dei poeti il sindaco replica alle critiche dei residenti a Silvi la spiaggia varia aperta i residenti vogliono partecipare alla decisione il comitato civico della zona scrive al commissario De Lucia e siamo ancora in provincia di Teramo ma Roseto piano per rilanciare il mercato coperto questa è una delle idee del comune e poi ancora Roseto non sbloccate i contributi alla salpa richiesta di consiglio comunale e sindacati alla regione in attesa dell'incontro di domani con il vicepresidente della regione con delega alle politiche del lavoro Giovanni Lolli in basso eventi culturali a Roseto il comune punta su saggistica e cinema l'Aquila controlli della finanza tasse vase Paris paga dopo l'indagine sigillati i conti per 300 mila euro all'avvocato e presidente dell'Avezzano Calcio che dice tutto di sequestrato vicenda chiusa il legale chiarisce non mi devo vergognare ce ne fossero di professionisti come me in questa città lo Stato non può pretendere nient'altro siamo a Tagliacozzo mix di droghe vaino verdose giovane salvato su un treno e poi ad Avezzano colpo fallito alla Sabatini bevande in basso ancora Avezzano maxidebito al CAM si muove la procura la pagina di L'Aquila provincia bando fare centro ammesse domande per 400 attività e poi ordinanza del doppio cratere istanze dei sindaci accolte vertice a Roma e poi a fondo pagina arrivano fondi per il turismo sostenibile Caruso presidente della provincia ha firmato l'intesa con il ministro De Vincenti iniziativa promossa dalla regione dal vice presidente Giovanni Lolli siamo arrivati allo sport ma dobbiamo andare a vedere e lo faremo dopo qualche istante di pausa le pagine interne dell'inserto abruzzo del messaggero del quotidiano la città seconda parte di mattino 6 siamo al messaggero Abruzzo pagina 2 pagina 2 Zeman spinge il Movimento 5 Stelle l'unico partito ad occuparsi di sport ieri la convention presso l'aurum di Pescara e sempre ieri Petrucci in aiuto alla Chiavaroli si è battuta con forza Petrucci attuale presidente della federazione italiana pallacanestro ex presidente del CONI nazionale siamo a Pescara la cronaca il custode spiana la strada ai ladri si parla del furto di 70 mila euro alle piscine le naide poi in basso in piazza senza autorizzazione rischiano la denuncia gli attivisti di Casa Pound proseguiamo stangata sul comune per un terreno dopo 30 anni arriva il conto per un esproprio da 1 miliardo e 800 milioni di lire pagato a chi non era proprietario dell'area la Cassazione dà ragione all'imprenditore Venceslao di Persio l'amministrazione dovrà sborsare un risarcimento milionario e poi proposta anticrisi di confesarcenti uffici nell'ex caripe ed ex banco di Napoli per un centro più vivo nei giorni feriali e intanto un nuovo centro commerciale in arrivo ai colli di Pescara in basso buone prassi fiscali e lotta allevazione siamo a livello dei comuni emiliani siamo alla pagina dell'area metropolitana di Pescara quella domenica in attesa del miracolo in migliaia 30 anni fa sul colle della vecchia per l'annunciata apparizione della madonna e poi il sindaco a Pescara riceve gli anziani raggirati il comune li aiuterà a difendersi e poi andiamo nella parte bassa della pagina la scomparsa di Getulio Alviani l'artista amico di Pescara siamo alla pagina che riguarda in questo caso l'Aquila sotto servizi scontro sui cantieri tra il sindaco Biondi e Mela Ragni e poi verso il voto campagna elettorale la fine con Bertolaso abbiamo visto anche dal centro che Bertolaso sarà l'Aquila per la fine della campagna elettorale e poi in basso l'allerta meteo termometro a meno 32 possibili oggi altre nevicate e poi Maurizio Battista a teatro per difendere le donne siamo all'altra pagina dell'Aquila per quanto riguarda sempre il messaggero il Cipe mette sul piatto 164 milioni recupero dei beni danneggiati e ripresa economica della zona le finalità dei finanziamenti concessi per il post terremoto e poi Palazzo Chigi vedete arrivano chiarimenti per il doppio evento sismico e poi ospedale paziente derubato da un'infermiera e poi la protesta di un uomo sale sulla gru per appendere uno stricione è sceso solo quando è stato raggiunto dei vigili del fuoco adesso rischia una denuncia e poi carcere sezione speciale per ospitare tre egiadaiste al carcere di Preturo all'Aquila siamo ad Avezzano dunque nella Marsica De Angelis Cam porto i conti in tribunale dopo l'accertamento dei 13 milioni di ammanco chiesto il concordato preventivo per evitare il fallimento il sindaco e l'amministratrice Morgante spiegano la situazione bisognava salvaguardare adesso l'occupazione di cento bisogna salvaguardare adesso l'occupazione di centotrenta addetti e poi Caritas Marsicana in città arrivano i profughi Eritrei Castel di Sangro ferito dal crollo del tetto troppa neve e ghiaccio Sul Mona Lombardo Radice ancora alti gli indici di vulnerabilità e ancora Sul Mona due assessori ci hanno fatto perdere i fondi la giunta Casini naviga con difficoltà nel Mirino Angelucci e Mariani sulla sicurezza leggiamo da questo titolo del messaggero e poi torniamo nella Marsica Trasacco Maxi sequestro di droga dei carabinieri e poi ad Avezzano Paolucci l'assessore regionale alla sanità dice ecco i finanziamenti per la sanità avezzanese siamo a Chieti abusivo ambulante falso dentista smascherato dal NAS abbiamo visto prima il servizio e poi San Camilo ed ex pediatrico la ASL vende ospedali e immobili dismessi e sempre a Chieti dopo la neve restano buche e ghiaccio siamo a Lanciano in questo caso siamo a Lanciano reliquie condanna e nuovo furto un anno e quattro mesi con rito abbreviato al lancianese 29enne che a ottobre del 2015 rubò la corona della Madonna della Valle e poi Lanciano ancora fondi del ministero per le case parcheggio vasto due soli dirigenti comune sguarnito ancora vasto sbanda investe una donna e si schianta contro il muro Ortona quel duplice delitto si poteva evitare la morte di Laura e Letizia le violenze di Francesco Marfisi sulla moglie erano state denunciate più volte leggiamo da questo risvolto dell'articolo del messaggero e poi tornando a Lanciano e cambiando argomento domani al Fenaroli coralmente Rotari contro la poliomelite siamo a terra mostrate groviera 15 milioni per coprire le solite buche e poi rimborsi Enel la denuncia segni incassati da altri e poi più a centro pagina paura per Dolly cagnolina maltrattata è scappata e poi verso il voto Mariani scontro con il Movimento 5 Stelle sulla laurea Lico Erelo dice l'esponente politico del Partito Democratico siamo a Giulianova Roseto e Val Vibrata l'urlo voglio tornare in classe non si dà pace il 18enne che ha coltellato a scuola lo studente 17enne marocchino suo ex compagno e poi anziano pedofilo incontro sessuale con la minorenne ma è una rapina e poi Giulianova omicidio rapposelli manca uno scotch proseguiamo ma siamo arrivati alle pagine dello sport allora possiamo passare al quotidiano la città ripartire dalla cronaca regionale la BEI sottoscrive le obbligazioni della Banca Popolare di Bari la provvista finanziaria fornita verrà utilizzata attraverso nuove erogazioni e poi cronaca falso dentista offriva ai pazienti cure itineranti sul suo furgone operazione del NAS e poi in basso firmata l'intesa per lo sviluppo del turismo nei parchi abruzzesi ricostruzione mazzocca scende in campo a difesa dell'USR dopo le critiche di professionisti costruttori associazioni sottosegretario snocciola i dati sull'attività in basso la politica Lucrezia Rasicci invece chiede conto dei ritardi deslurs la candidata leghista la governance regionale dice ha fallito sulla ricostruzione post terremoto ancora cronaca di Teramo sicurezza partecipata cittadinanza attiva incontra la regione per discutere dello stato degli edifici scolastici di Teramo e poi la segnalazione dell'associazione Robin Hood senza energia per il block out si teme a truffa la truffa sui rimborsi e poi Ginaldi un terramano a sinistra della sinistra torniamo alla politica candidato con potere al popolo viene dall'esperienza in Spagna con Podemos e ha già lottato per l'Atria colpi bassi e fake news a ridosso del voto dossier lauree contestate curriculum e scontro aperto tra i pentastellati e Sandro Mariani del partito democratico e poi la proposta la proposta dell'esponente di noi con l'Italia a Quagliariello una legge sui parchi e la montagna e poi a Martinsicuro vedete il titolo più in basso Forza Italia incontra le imprese del territorio andiamo avanti proseguiamo saltata la fiera dell'agricoltura siamo a Teramo l'edizione del trentennale verrà organizzata dalla prossima amministrazione comunale ancora avanti a Torre Bruciata riaprono le scuderie Savini seconda vita per l'ex ristorante nel cuore del centro storico che cambia pelle e si trasforma in vineria provincia le scuole riaprono ma lo scuolabus non passa proteste dei genitori a Isola del Gran Sasso le medie si presentano solo tre studenti su 180 iscritti 15 milioni per la manutenzione stradale sottoscritta ieri mattina alla convenzione tra regione e provincia nel Teramano sono destinati a 14 interventi e poi in basso a Crognaleto guasto del bus studenti restano a piedi nel gelo della montagna e poi il caso a giudizio con il nome sbagliato sentenza annullata Corropoli i consiglieri del Partito Democratico assenti in consiglio per la convocazione arrivata in ritardo Civitella del Tronto il Cipe approva il restauro della Fortezza Borbonica Martinsicuro una parete d'arrampicata grazie al bando del Ministero Ricatti e Raggiri siamo a Giulianova trappola sessuale per rapinare un anziano convincono una minora ad adescare un pensionato per aggredirlo e derubarlo poi ricattano la famiglia del ragazzino Mosciano riaprono gli asili ma i termosifoni non funzionano e poi in basso tornando a Giulianova aree di via Trieste via Libera alla nuova convenzione siamo alla pagina della provincia di Teramo Pineto a Villa Filiani il convegno sulle strategie del turismo ambientale Roseto Salpa chiesto un incontro in regione ad Atri da Coldiretti il manifesto per il bene dell'Abruzzo e poi verso il rimpasto siamo a Roseto Toto Assessore ecco i papabili e intoccabili si va verso l'aumento degli assessori con l'ingresso di un giovane consigliere e di pezzi della minoranza pagina della cultura 80 anni senza nemmeno un giorno di silenzio il primo marzo del 1938 morì D'Annunzio Enrico Di Carlo un classico del Novecento un personaggio che continua ad affascinare è ovviamente Gabriele D'Annunzio ancora l'anniversario in fondo anche Gabriele è stato un po' vampiro Roberto Barbolini dice è stato un grande sperimentatore e un maestro di stile ha fatto da apripista al rinnovamento culturale arriviamo alle pagine dello sport restiamo per un attimo al quotidiano la città per parlare in questo caso come sempre sul quotidiano teramano delle vicende calcistiche biancorosse Campitelli pronto ad incontrare tutti i tifosi il presidente chiarisce a TV6 lo sfogo di sabato chiedo scusa parole dettate dall'amarezza presidente del Teramo ospite nella nostra trasmissione pro Teramo di martedì scorso e poi in basso il basket per la Teramo a spicchi inizia la fase ad orologio il via sabato alle 19 andiamo a vedere le pagine dello sport del centro del messaggero poi chiuderemo con le prime pagine dei tre quotidiani sportivi nazionali ripartiamo dal centro Coppa Italia sfida del 9 maggio sarà Juventus Milan Juve la quarta finale consecutiva troverà il Milan ieri le gare di ritorno di semifinale con il Milan che si è imposto per 5 a 4 i calci di rigore all'Olimpico e con la Juventus che sempre su rigore ha battuto l'Atalanta per 1 a 0 e poi Serie A stipendi dei dirigenti c'è questo specchietto questo articolo del centro De Laurenti e Famiglia 4 milioni e mezzo di stipendio Marotta direttore generale della Juventus ne incassa 2,6 2 milioni e 600 mila euro siamo alla pagina della Serie B per parlare del Pescara Pescara boccato dalla neve martedì non è cestato è stato rinviato il match Pescara-Carpi si attende ancora di conoscere la data del recupero e intanto società e tifosi chiedono alla squadra un cambio di marcia marzo un mese decisivo per il futuro 6 gare in 26 giorni Pescara a Cittadella inizia la volata playoff sabato Pettinari potrebbe riprendersi il posto al centro dell'attacco e poi vedete la classifica per quanto riguarda le prime posizioni la lotta a promozione Empoli al comando con 51 punti Frosinone 50 poi ci sono le squadre che sono in zona playoff con Palermo Cittadella Bari Venezia Parma e Cremonese e poi dietro Spezia Perugia Foggia Carpi e Pescara che però con il Carpi e non solo perché anche Spezia e Perugia e Bari hanno una gara in meno gare che dovranno essere recuperate nei prossimi giorni e poi il calendario del Pescara da qui fino all'ultima giornata perché sabato prossimo si giocherà Cittadella Pescara poi ci sarà Pescara Parma poi probabilmente il 13 marzo data ipotetica dovrebbe recuperarsi Pescara Carpi poi ci sarà il posticipo domenicale Avellino Pescara poi Pescara Empoli Brescia Pescara Palermo Pescara dunque doppia trasferta per i Biancazzurri Pescara Bari Provercelli Pescara Pescara Spezia Ternana Pescara Pescara Cesena Novara Pescara alla penultima giornata il derby con l'Ascoli campionato che si chiuderà almeno per la stagione regolare con la gara del Penso di Venezia Parliamo ancora del Pescara ieri il notiziario indisponibili solo Bovo e Proietti fino a martedì si potrà chiedere il rimborso per i biglietti della gara con il Carpi e intanto parla l'ex di Cittadella Pescara Luca Valzania Attenti a Quamei il segreto dei Veneti e la coesione Cittadella che ha vinto nove gare in trasferta e ne ha perse sei in casa siamo alla serie C Campitelli Teramo scusa o esagerato dietro front del patron dopo l'accusa di sabato e la replica del club bianco-rosso parole del presidente del Teramo che sono state dette in diretta nel corso di ProTeramo in onda il martedì martedì scorso nei nostri studi a cura di Jacopo Forcella e a tal proposito le scuse del patron intervenendo alla trasmissione ProTeramo in onda su TV6 il presidente Luciano Campitelli leggiamo qui dalle colonne del centro si è scusato con i tifosi dopo le pesanti dichiarazioni rilasciate al termine della gara con il Bassano e dal Teramo al San Nicolò ci spostiamo di qualche chilometro perché c'è la mano di Montani sulla rinascita del San Nicolò sabato l'anticipo tra San Nicolò e l'Aquila in basso in prima categoria il Nepezzano brilla grazie ai giovani il calcio in tribunale la curiosità anche il progetto Noemi nella lista dei creditori della Virtus Lanciano leggiamo da questo articolo del quotidiano il centro e poi l'eccellenza il presidente del Chieti Trevisan Loda il Giuliano merita dice il patrone neroverde la promozione in basso il calcio a 5 il Pescara perde Matirosa squalifica di un anno l'argentino punito per Passaportopoli in Coppa possibile derby abruzzese in semifinale siamo al basket la carica dell'ex Pepe il primo tifoso vai amatori stupisce in Coppa la guardia francavillese del Moncada parla del suo momento e dei pescaresi impegnati domani nelle final eight di serie B di Coppa Italia ancora basket serie C Silver Vastro andrà a Chieti con l'esterno Paggi domenica alle 18 al Palalaico scontro al vertice nella prima giornata della fase ad orologio e in serie A2 né arrivi né partenze il Roseto chiude senza botti e si prepara al rush finale con la speranza di poter conquistare la salvezza ancora sport dalle pagine del centro in alto si parla di Atletica Sabatini è mantenuto nell'Under 20 e poi il grande rugby all'Aquila le Zebre in campo al Fattori un comitato per organizzare la gara di Celtic League prevista il 13 aprile contro i Gallesi del Newport Winter Dragons e poi ancora Atletica l'Abruzzo Cadetti sabato al trofeo ai confini delle Marche e poi il ciclismo mountain bike Giorgini II a Palma Campania in basso sollevamento pesi bene di Ferdinando e Narcisi e poi il Duathlon sprint corrà terzo agli assoluti lasciamo le pagine dello sport del centro passiamo a quelle del messaggero l'ex Valzania cerca il gol del rilancio parla l'ex di Cittadella Pescara Luca Valzania che ha disputato 33 gare segnando un gol lo scorso anno con la maglia del Cittadella il centrocampista fu preso lo scorso anno proprio dai Veneti al tombolato voglio vincere e segnare siamo un'ottima squadra la paura ci frena e il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ribadisce per l'ennesima volta senza playoff stagione fallimentare in basso calcio a 5 Acqua e Sapone e Pescara esordio duro nelle final eight di Coppa Italia il team di Murilo contro Pesaro padrone di casa Delfino contro Napoli se vinceranno ci sarà il derby tra Acqua e Sapone e Pescara in semifinale e siamo alla pagina che riguarda il calcio di serie D e di serie D partiamo dal Teramo Tegola Panico l'attaccante neoacquisto si è infortunato e poi mea culpa di Campitelli apprezzo i tifosi questo è il titolo che riguarda la formazione bianco-rossa l'attaccante Panico si è infortunato sicuramente un inizio non positivo per la sua avventura nel Teramo e a proposito di Teramo anche dalle colonne del messaggero leggiamo uno stralcio di articolo che riguarda proprio la formazione bianco-rossa chiedo scusa il mio discorso era riferito solo ad una minima parte della tifoseria a parlare il presidente Campitelli ed è stato fatto in un momento in cui avevo molta amarezza dopo la sconfitta lo ha detto ospite di Proteramo su TV6 il patron bianco-rosso vedendo alcuni che insultavano dei ragazzi molto giovani ho voluto difenderli perché erano giù di morale dopo aver perso non ho mai voluto offendere una piazza che adoro e voglio ringraziare i tifosi che sabato scorso hanno applaudito comunque la squadra queste le parole rilasciate dal presidente del Teramo Luciano Campitelli alla trasmissione di Jacopo Forcella Proteramo parliamo del Giulianova Real Giulianova parte l'iniziativa degli sconti riservati alla tifoseria Giulianova che è ad un passo dal ritorno in Serie D una piazza che ovviamente merita altri palcoscenici calcistici leggiamo anche abbiamo qualche istante per leggere anche questo articolo breve proprio che riguarda il Giulianova per fare un campionato di vertice anche in Serie D abbiamo bisogno della tifoseria facendo leva su questo concetto il Real Giulianova attraverso le parole del direttore generale Verna Cotola e dell'avvocato Libera D'Amelio ha lanciato l'iniziativa Io amo il Giulianova che coinvolge tifoseria e città si tratta del varo di un'associazione attraverso la quale i tifosi sottoscrivendo un abbonamento avranno la possibilità di poter contare su una serie di sconti sugli sponsor della squadra e su altre attività commerciali che aderiranno contiamo ha detto Verna Cotola di poter arrivare a 1.500 2.000 adesioni e siamo al rugby l'Aquila maglie in onore di Zaffiri presentato il progetto formiamo in collaborazione con Eni e Università iniziativa davvero da sottolineare per ricordare il compianto presidente della formazione aquilana di rugby Mauro Zaffiri e poi in basso vediamo la solita e consueta mezza pagina del giovedì sul messaggero dedicata al calcio Wisp il Kral Angelini piazza un innesto clamoroso in ottica finali nazionali 2018 forse lo riconoscerete dalla foto perché gioca nella squadra pescarese Wisp del Kral Angelini Stellone Roberto Stellone ex giocatore per tanti anni in serie A in serie B ex allenatore tra l'altro del Frosinone dunque una stella del calcio italiano che milita nella formazione del Kral Angelini Wisp del comitato provinciale di Pescara e siamo alle prime pagine dello sport dei quotidiani sportivi nazionali partiamo dalla gazzetta dello sport Stramilan e signora Juve questo è il titolo della gazzetta dello sport incentrato sulle due gare di semifinale di Coppa Italia gare di ritorno disputate ieri con la vittoria del Milan a Roma con la Lazio per 5 a 4 la vittoria di misura per 1 a 0 della Juventus sull'Atalanta la finalissima 9 maggio a Roma sarà Juventus Milan ma si parla anche del derby di Milano in programma nel fine settimana a San Siro cancello aperto derby sì sarà grande Inter lavoriamo per tornare al top dice il laterale portoghese dei nerazzurri e poi vediamo in basso un titolo che riguarda il sarrismo il tiki-taka made in Italy si parla della tendenza a Barsa del Napoli Napoli che è primo in classifica nel campionato di serie guidato da Maurizio Sarri che molti ricorderanno è stato allenatore del Pescara e ha iniziato ad allenare ad alti livelli proprio in riva all'Adriatico Sarri ecco qui il titolo anche del Corriere dello Sport corre come Pep che sta per Pep Guardiola il Napoli ha una media spaventosa di 2.65 punti a partita in Europa lo supera soltanto il City di Guardiola con 2.66 dunque una differenza davvero minimale e intanto Rino sfida Max Coppa Italia il 9 maggio finalissima Juve Milan eliminati Atalanta 1 a 0 e Lazio dopo 14 rigori una serie infinita di rigori per decidere chi tra Lazio e Milan dovesse approdare alla finale di Coppa Italia si parla anche di nazionale sulla prima pagina del Corriere dello Sport in corsa per la panchina azzurra ci sono Mancini Conte e Di Biaggio che è attualmente il traghettatore della nazionale italiana e poi lo stadio di Cagliari ecco i progetti sceglieranno i tifosi e Uva annuncia la candidatura italiana all'europeo 2028 e si giocherà si dovrebbe giocare anche a Cagliari infine un titolo che riguarda l'atletica indoor al via i mondiali con tante stelle a Birmingham subito in pedana l'azzurra Trost nel salto in alto e siamo a tutto sport è una Juve da record quotidiano sportivo torinese che ovviamente dedica neanche a dirlo la prima pagina alla vecchia signora è una Juve da record qualche sofferenza di troppo con l'Atalanta ma basta il rigore di Pjanic che contestato da Gasperini il rigore per regalare alla squadra di Allegri la quarta finale consecutiva di Coppa Italia la diciottesima della storia bianconera e poi più in basso i talenti della serie B Tonali Moan e i loro fratelli gioielli da top club e poi portieri Reina attuale estremo difensore del Napoli il futuro si chiama Milan Napoli su Leno e poi il caso mercato al minimo pure gli interisti di Cina protestano e infine all'estero Coppa di Francia due club dilettanti in semifinale dal calcio alla Formula 1 neve in pista Kimi come in Finlandia l'ultima notizia che riguarda tutto sport che è l'opinione di Xiaver Jacobelli si parla di portieri Buffon e Dino Zoff stessi destini siamo giunti al termine dunque dell'appuntamento di oggi di giovedì primo marzo con Mattino 6 che tornerà domani come sempre puntuale alle 8 io vi ricordo invece il prossimo appuntamento informativo della nostra rete alle 14 con la prima edizione del nostro telegiornale è tutto grazie per averci seguito grazie a Claudio Di Giacomo in regia l'augurio di una serena giornata grazie a tutti Grazie a tutti.